Leggere il Partigiano Johnny è qualcosa che si può definire più un'esperienza, cioè non è soltanto un libro e questo accade di solito con i grandi capolavori in qualsiasi arte, quando uno esce da un cinema dopo aver visto un film che non è semplicemente un film ma fare un'esperienza è qualcosa di unico e quindi è stato molto difficile perché come qualsiasi cosa alta secondo me richiede una certa dose di impegno anche da parte del fruitore e quindi anche da parte di chi legge. Ho avuto la fortuna di leggerlo due volte e la seconda volta l'ho goduto ancora maggiormente mentre l'ho letto per l'audiolibro, ovviamente avendo fatto anche un provino precedentemente per essere scelto con mia grande gioia poi di aver raggiunto questo risultato perché so l'importanza che questo libro ricopre non solo dal punto di vista letterario ma anche storico e comunque è un pezzo del nostro paese sicuramente fondamentale ma soprattutto appunto basta leggere una pagina, basta leggere la prima pagina per capire che ci si trova di fronte a qualcosa di impegnativo, di non facile ma di straordinario. Io l'ho un po' paragonata al raggiungimento di una cima in montagna, siccome si parla molto delle montagne e questo è un viaggio in montagna, il viaggio in montagna ha dei cambi di paesaggio costante, ci sono dei momenti di squarci di bellezza, heart breaking direbbe fenoglio che ti tolgono quasi il respiro e momenti difficili, momenti in cui puoi scivolare, salite, discese, momenti pianeggianti. Il libro secondo me è tutto questo, ci sono anche momenti molto diversi perché si racconta sia del pensiero di Johnny dal punto di vista proprio intimo, soprattutto nella prima parte del libro, c'è una seconda parte invece in cui si raccontano molti altri personaggi e la cosa interessante è appunto che non c'è un unico modo per esempio di vivere la resistenza, non c'è un unico modo, non c'è un unico pensiero ma si riesce ad avere la testimonianza di diversi modi di vivere la resistenza, del rapporto per esempio con i borghesi, quindi come i borghesi o i civili diciamo cambiano, hanno anche loro un diverso modo di vivere la guerra, non soltanto la resistenza, quindi ripeto è un insieme di emozioni e di descrizioni di personaggi affascinantissimo. Partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l'avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com'è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana. E nel momento in cui partì si sentì investito, nor death itself would have been divestiture, in nome dell'autentico popolo d'Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più inebriante la coscienza dell'uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai stato così uomo. Piegava, Erculeo, il vento e la terra. È un libro che sicuramente ti porta ad avere un rapporto fisico con la lettura, un rapporto fisico di fatica ed è anche un libro secondo me sensoriale, sensoriale nel senso che ti riporta tantissime sensazioni, è proprio legata ai sensi, cioè quello che racconta di Johnny, quello che uno legge. Tra l'altro una cosa curiosa a cui pensavo è che sembra scritto in prima persona. In realtà non lo è. Però nella mia idea è come se fosse scritto in prima persona, perché sei talmente all'interno, dentro il pensiero di Johnny, che appunto questo mio ricordo lo penso sempre come se fosse scritto in prima persona. Ma no, dicevo che è un libro sensoriale perché ti fa provare tutto attraverso tutti i sensi, cioè dei posti, dei luoghi, della guerra, della battaglia, ti fa sentire l'odore, ti fa sentire l'erba, il tatto e quindi ti fa sentire il dolore. Quando cade senti un dolore fisico e lo percepisci nella lettura, ti fa sentire tutti i suoni. Per esempio c'è un suono che mi ha colpito molto che è il suono dell'inverno, del ghiaccio nel silenzio della montagna, il ghiaccio che si muove, i rami che fanno quel rumore, che fanno solo i rami d'inverno. E quindi queste cose ti entrano come non solo nel cervello, ma dentro, nel corpo. È vero che quando finivamo un capitolo uscivamo stremati al sole estivo e ai 40 gradi romani, dopo essere stati a meno 10 o meno 15 in montagna. Quindi questa è un'esperienza meravigliosa. Dalla pianura della città saliva, sordo e puntuale, il boato dei mortai sul fiume congelato. Suonava come una marcia a tamburo per un'accessione al patibolo. Un gigante doveva essere decapitato. Le ore avevano un'estensione biblica. Il mio rapporto con Johnny è ormai quasi di amicizia, nel senso che innanzitutto è un rapporto, è come un tramite, è una voce che mi ha fatto vivere e anche capire, non c'è un giudizio postumo su quello che viene scritto. Non esiste retorica in questo libro. E questa è la forza, nel senso che tu vivi esattamente quello che viveva lui. Ed essendo un libro molto maschile, con amicizie molto maschili, con quel rapporto, ti senti un po' parte del gruppo, non dico di disperati, ma sicuramente di ragazzi che stavano facendo una fatica fisica per una scelta che non è una scelta ideologica, almeno sicuramente in Johnny non è una scelta ideologica, è una scelta di libertà come condizione umana. Non potevano non essere i fascisti, poteva essere qualcun altro. Il problema era ritornare ad essere liberi e combattere, tra virgolette, il male. In questo ha qualcosa di eroico, nonostante sia un personaggio anti-eroico, nel senso che è pieno di dubbi, è pieno di debolezze, è pieno di indecisioni, è anche pieno di inesperienza, soprattutto all'inizio del libro. E tutto questo creano, cresci con lui, cioè parte che è un ragazzo e finisce il libro dopo un anno e mezzo, più o meno, di lasso di tempo, ed è un uomo. Un uomo compiuto, un uomo più maturo di un uomo adesso di 50 anni, probabilmente. L'uomo voleva discorrere, ma inutilmente aspettava l'avvio di Johnny. E da allora si risolse lui, con la greve repugnanza di quel tipo di contadino, ad aprire un discorso. C'è grandissima propaganda all'interno del gruppo rosso. Addirittura ci sono delle ore dedicate alla propaganda. E poi sono persone solitamente molto semplici, sono più, diciamo, legate al mondo contadino, dove era forse più facile da parte appunto di alcuni personaggi politicamente impegnati in qualche modo affascinarli con la parola, la rivoluzione e il comunismo. I partigiani invece azzurri, quelli cosiddetti badogliani, sono invece di solito un gruppo, gruppi di ex soldati dell'esercito reggio che hanno di solito un livello culturale leggermente superiore e che non sono quasi assolutamente politicizzati. L'obiettivo non è quello di ribaltare o comunque far cadere la monarchia, per esempio, semplicemente allontanare soprattutto i nazisti, credo, e i tedeschi, perché percepiscono l'invasione, che prima ovviamente non percepivano perché erano dalla loro parte, o in quel momento sentono un esercito nemico che è sul proprio territorio. C'è ancora un grandissimo ideale di patria all'interno dei badogliani, ancora un motivo e un valore per cui combattere e rischiare la propria vita. La cosa interessante di Johnny è che inizialmente il suo rapporto con i partigiani è di qualcosa, come credo per molti di quell'epoca, è qualcosa di quasi di eroico, di irraggiungibile, di invincibile, cioè sono un po' idealizzati i partigiani in montagna, non esistono ma si vedono le azioni che fanno, si incominciano a incrociare, ma certamente non in città. E quindi la sua partenza verso la montagna è, dice una frase incredibile, sente la pienezza della condizione umana, cioè sente di partire per qualcosa di più grande, di più importante e finalmente di giusto nella sua vita, così, di forse, no, di borghese letterato, un po' viziato, tra virgolette, invece sente di partire per qualcosa di importante, si sente compiuto umanamente. E questa scelta la porterà fino alla fine, nonostante i cambi vari di casacca, tra virgolette, perché, lo dirà anche alla fine, dice io mi sono impegnato per dire di no, nonostante moltissimi gli suggeriscono a un certo punto, quando la situazione è ormai precipitata, rimane da solo praticamente uno dei pochissimi a girare tra una casa dei contadini e l'altra per trovare un po' di cibo, ma fondamentalmente è da solo in montagna e quindi gli viene suggerito di aspettare la primavera quando probabilmente gli alleati saliranno, cosa che poi è accaduta nella realtà, e invece lui dice no, questo sarebbe come dire di sì, cioè sarebbe tradire l'idea, viene chiamata così nel libro, l'idea con la I maiuscola. Quindi diciamo che Johnny in realtà incontra il primo gruppo di partigiani che lo accoglie, cioè lui parte verso la montagna, addirittura con la preoccupazione di non trovare nessuno e di essere costretto alla prima notte a dormire in un rifugio, in un alberghetto, e invece il primo gruppo che incontra si unisce a loro, capendo dopo pochissimo tempo di essere, insomma che il sogno del partigiano è molto diverso, la vita del partigiano è molto diversa, non combatte tutti i giorni, ci sono delle attese snervanti, ci sono persone, soprattutto nel gruppo dei rossi, che sono assolutamente lontane, addirittura lui parla di gente che non ha la stessa carne e le stesse ossa sue, sono persone sicuramente socialmente e culturalmente differenti e lontani. Eppure lui viene colpito da un ragazzo, Tito, che lambrosianamente potrebbe essere definito già un delinquente, già per l'aspetto fisico, ma viene colpito dalla forza di questo ragazzo, perché la cosa bella dei partigiani è che le chiacchiere contano poco, contano i fatti, e quindi lui viene affascinato da questo ragazzino che è molto più, all'occhio molto più veloce del suo, nonostante sia più giovane, sicuramente ha più esperienza di vita vera, e poi il problema che veramente lui non sopporta invece è proprio la propaganda comunista, oltre al fatto che c'è una sorta di imbarbarimento anche delle consuetudini militari, sono una cozzaglia di persone che stanno cercando di resistere, ma con poche armi, in una situazione molto deludente rispetto alle sue aspettative. Quando si unirà invece, alla prima occasione, potrà riunirsi alla banda degli azzurri, dei partigiani azzurri, riconosce secondo me di più una appartenenza di persone con le quali può parlare di qualcosa che può coinvolgerlo, anche se lì per esempio fa una critica molto, secondo me giusta, al fatto che l'idea dei partigiani azzurri era ancora quella di affrontare il nemico in maniera tipicamente militare, secondo tecniche militari tradizionali, quindi con un grande numero di combattenti, quasi una battaglia di trincea, quando la sua idea invece è quella di, secondo lui le azioni partigiane dovevano essere brevi, rapide e costanti, come una spina nel fianco ai reparti fascisti e nazisti della zona. Gli uomini, i ragazzi, erano intontiti e riluttanti al pari di lui. Si muovevano assorti nello sparso fuoco fascista, pigramente ma luminosamente pensando che la città era sì perduta, ma che faceva un mondo di differenza perderla alle 15 anziché alle 14.15. finché il capitano Marini si infuriò e pistola alla mano li radunò e li spinse a ritirarsi. Sicuramente Johnny è fondamentalmente un solitario. La vita d'insieme lo mette in difficoltà a prescindere in diversissime situazioni. Probabilmente io suppongo anche a scuola, probabilmente suppongo io anche durante il servizio militare, dal quale poi poi fugge l'8 di settembre. La sua condizione è un uomo di poche parole, tutto sommato. Non è uno che parla molto, anzi, ascolta. Parla poco e quando parla ha senso quello che dice. Ha un affetto nei confronti degli altri, però esplode in un paio di situazioni. Quando è preoccupato per Ettore e Pieri, i suoi due migliori amici con i quali condivide il maggior numero di tempo, di periodi di tempo, anche se non è un periodo lunghissimo. Ma sono sicuro che la sua, proprio come essere umano, non per scelta, non per antipatia nei confronti degli altri, semplicemente ci sono delle persone, secondo me, ne conosco tantissime, che stanno bene da sole anche e ogni tanto la presenza degli altri li distrae, un infastidisce in qualche modo. Quindi per lui dover convivere con molte persone per tanto tempo che sono, ripeto, molto diverse da lui, sicuramente in parte è una sofferenza. Questo non toglie che abbia degli affetti molto forti nei confronti, soprattutto di alcuni personaggi, che poi perderà uno dopo l'altro. Tanto che lui alla fine rimane tra gli ultimi e a un certo punto dice io sono l'unico ramo dell'albero che non cadrà. Lo dice con un sorriso e poi si pente di averlo detto. Ma quello che credo è sicuramente che la sua non sia, ripeto, una scelta ideologica. È chiaro che l'idea c'è di fondo, l'idea di combattere il fascismo e di tornare ad essere liberi. Ma è un'idea, ma sicuramente la sua scelta è una scelta personale, per la libertà personale. Per questo credo anche che abbia questo senso di fastidio per la propaganda comunista, perché invece proponeva una rivoluzione non personale e lui intravedeva anche una possibile mancanza di libertà. Gli dava, secondo me, talmente indipendente, sia nel pensiero che fisicamente, che non poteva neanche supporre un futuro in cui tutti insieme prendevano le stesse decisioni e dicevano le stesse cose. Era troppo libero intellettualmente. A me viene più facile pensare a un parricida che a una spia. E che sono? Fascisti, borghesi o molto spesso sono soldati, travestiti da ambulanti o mendicanti, o perfino da partigiani, che girano, annotano, riferiscono quando non fanno il male direttamente. Però hanno un bel fegato. Ne hanno, sì. Perché a parte voi, noi stessi, uomini di pace, gente che non c'entra, se li scoprissimo, strapperemmo loro il cuore e le budella. Johnny guardò circolarmente i bambini in gioco e disse qualunque cosa accada, badate a loro. Capito? Tra i personaggi incontrati, alcuni anche stupefacentemente divertenti, cioè la cosa che ho scoperto rileggendo il libro, che ci sono dei momenti anche ironici e molto divertenti, soprattutto le calate in città. Nel momento in cui scende in città, quindi la scena del postribolo, la scena che racconta quando va a ballare a casa di una ragazza che è innamorata di lui, le figure femminili sono poche, ma sicuramente affascinanti, anche se capisci che sono un mondo altro. Cioè c'è una comunanza maschile, poi c'è il mondo femminile, che è qualcosa di altro da scoprire, un po' come credo fosse all'epoca in qualsiasi campo, cioè c'era comunque una distinzione. Però il personaggio che più, oltre agli amici meravigliosi, che perde, però il personaggio che più mi ha colpito è il personaggio di Nord. E mi viene da ridere mentre lo dico, perché è un personaggio che secondo me è quasi comico, è quasi ironico, è quasi fumettistico. Cioè arriva questo Capitana Harlock, una sorta che mi sono immaginato io di Capitana Harlock, questo uomo sempre elegante, di una bellezza sconvolgente, che colpisce sia il femminile, ma anche il maschile, viene colpito da tanta bellezza, che in qualche modo è compensata da una normale intelligenza. Infatti lui dice, se non fosse così bello, all'inizio dice, questo è troppo bello per essere intelligente. Non è un genio, ha una bellezza, ha un'intelligenza normale, ma accostata a quella bellezza, comunque gli dà quell'allure, quel potere da capo che doveva avere. Ma è un personaggio che ogni tanto appare e ha delle entrate in scena, io parlo di scena perché mi immagino sempre come se fosse un film, in alcuni momenti, o comunque l'immaginazione crea delle immagini. Lui arriva sempre con questa macchina, con queste guardie del corpo, che Johnny detesta, però tutti vestiti bene, tutti con le armi migliori, lui che parla bene e in qualche modo riesce sempre ad arringare i partigiani in modo entusiasmante, anche se poi in realtà loro hanno pochissime armi, sono messi malissimo e spesso non possono nemmeno combattere, però riesce in qualche modo a tenere su l'entusiasmo. E poi è divertente come ne racconta anche in maniera, ripeto, sottilmente ironica, ha anche i difetti, cioè sicuramente la vanità che traspare immediatamente, ogni tanto ha qualche dubbio anche sulla sua concretezza. E questo è un personaggio che mi ha molto colpito, perché è talmente in contrasto con tutto quello che circonda la povertà, la fatica, fisica, la sofferenza fisica, la sofferenza intellettuale, e tutto, che quando arriva Nord Nord è una ventata di freschezza e di altro comunque, per poi riprendere e come è arrivato risparire, quindi è proprio un'apparizione di qualcosa di diverso. Johnny sedeva e fumava al limite della pioggia. Fare il partigiano era tutto qui, sedere, per lo più su terra o pietra, fumare, ad averne, poi vedere uno o più fascisti, alzarsi senza spazzolarsi il dietro, e muovere a uccidere o essere uccisi, a infliggere o ricevere una tomba mezzo stimata, mezzo amata. Sicuramente la descrizione dei luoghi e dei paesaggi è fondamentale, sono protagonisti come tutto il resto, e l'idea che mi sono fatto è... ho dato un'occhiata, dire la verità, non ho resistito guardando la cartina, però a un certo punto ho anche lasciato andare l'immaginazione e la fantasia. c'è una descrizione di ogni montagna come soltanto un montanaro potrebbe fare, cioè il sentiero arriva lì, poi c'è un rittano, poi fai altri 200 metri, poi c'è la foresta, poi c'è il bosco, poi c'è... e torno a dire che la grande forza secondo me oltre alla descrizione fisica, oggettiva e all'immagine è di tutto il contorno sensoriale che ti porta a essere quasi già stato nelle langhe. Io sono un amante della montagna, conosco la montagna, quindi per me quei profumi, quell'odore di pino che ti può arrivare nel naso mentre tu ti immagini una cosa o quella il ghiaione a cui devi stare attento mentre cammini, quel freddo pungente che arriva, quei suoni che senti, erano vivissimi. Ora spero di poterla poter andare nelle langhe e vedere queste posti, credo anche che ci sia un tour fenagliese o fenagliesco o fenagliano. Poi Johnny riuscì e cercò la lontana figura di Ettore. Lo individuò che dalla fine della discesa attaccava la prima rampa del bricco d'avene. Johnny gli urlò dietro, Ettore ruotò su se stesso, ricambiò l'hand waving e se ne andò con passo sorridente. Era per Johnny un incanto sempreverde, quello di un uomo andante solitario per le deserte colline. Nei punti sommi la testa e le spalle erette nello sweeping cielo. E osservando il passo di Ettore si rese definitivamente conto di come le colline li avessero tutti, lui compreso, influenzati e condizionati tutti alla lunga come se vi fossero tutti nati e cresciuti e destinati a morirvi destinati a morirvi senza conoscere evasione o desilio. Essi tutti camminavano ormai come i contadini nativi con quel passo cui lo stesso carattere di durata fisica finiva col sottrarre ogni e qualsiasi ritmo apparente. Sicuramente la lingua è quello che fa diventare questo libro qualcosa di diverso da tutti gli altri. L'esperienza secondo me viene proprio da questa lingua che è una lingua apparentemente sembra più di cuore che di cervello cioè sembra più che che l'autore descriva come come meglio può senza senza pensare tanto alla appunto per assurdo senza pensare troppo alla lingua cerca di far arrivare al lettore un'emozione o un paesaggio attraverso una lingua inventata una parola inventata che però è più giusta di quella che esiste fino a quel momento per rappresentare quella cosa che ha in testa lui tanto che tra le varie insomma tra qualche commento che ho letto su Fenoglio si dice che appunto Conrad diceva che la parola è la nemica della realtà perché nessuna parola può descrivere esattamente quello che accade nella realtà secondo me Fenoglio si avvicina invece o comunque tenta questo passaggio difficilissimo e per fare questo usa tutte le lingue che ha a disposizione e che conosce lui usa una lingua che è quella definita ambientale che è il dialetto col quale che racconta più facilmente anche quello più legato alla terra alla vita contadina e italianizza delle parole del dialetto ha studiato tantissimo in inglese si è immerso dice Calvino nella letteratura inglese più alta e quindi quella è diciamo la lingua mentale e si appoggia tantissimo tanto che scrive in inglese poi traduce in italiano quindi lascia questi inglesismi non soltanto lascia delle parti in inglese e anche qui ogni tanto osa pure sull'inglese ad inventare delle cose ma lo 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 italianizza anche quello e quello l'ho trovato ci sono dei momenti in cui c'è una sorta di godimento vero addirittura oserei dire orgasmi letterari perché perché riesce ad unire delle cose come nella musica come appunto nelle grandi opere d'arte ci sono delle cose che semplicemente ti invadono emotivamente o anche intellettualmente e poi c'è l'italiano ovviamente che è la lingua che ha studiato a scuola quindi questi tre linguaggi li riesce a mischiare per secondo me cercare di portare il più possibile qualcosa che si avvicini a una sensazione e quindi non pensi più alla correttezza o meno ma a quello che ti arriva l'altra sicuramente leggerlo è stato appunto proprio per questo inizialmente molto complesso molto complicato ero sinceramente anche abbastanza preoccupato di questa sfida perché mi rendevo conto che una pagina di fenoglio ha una densità che è pari a dieci pagine di altri autori anche grandi che hanno scelto però insomma un altro modo per esprimere però è vero che nel momento in cui rompi il ghiaccio o rompi il fiato scegliamo uno di queste figure però insomma rompi il fiato entra nella lingua entra nel suo modo di pensare e poi cominci a godertela anche questo fa parte a me è successo anche con altri libri per esempio Céline è un altro autore che non leggi immediatamente ci metti un po' ad entrare come in certi film come in certe in certa musica devi avere una disponibilità ad alzarti un attimo a fare un po' di fatica per poi godere e ovviamente non avrei mai potuto farlo come prima lettura mentre altri libri ti permettono a prima vista di poter leggere questo è un libro che assolutamente non puoi fare in questo modo anche perché spesso c'era anche un rapporto simpatico con Fenoglio perché ogni tanto pensi adesso ce la faccio stavolta lo frego io e poi un attimo dopo è lui che ti frega perché ti mette qualcosa di assolutamente inaspettato oltre al fatto che per aiutarmi un po' in questa lettura quando ho avuto la possibilità devo dire non sempre però cercavo di almeno segnarmi gli interventi delle lingue straniere perché non c'è solo l'inglese c'è anche il francese c'è anche il latino per cui tu stai leggendo già una frase complessa e poi a un certo punto ti trovi una lingua che non conosci e è lì non c'è salvezza tra virgolette e anche questa ricerca poi dei termini di quello che ha cercato era assolutamente fa parte insomma di questa esperienza che continuo a chiamare esperienza grazie a tutti grazie a tutti